ah beh allora mi è stato chiesto se penso che sean roden avrebbe vinto il mistero olimpia di quest'anno quest'anno nel senso 2020 però bisogna andare un po a ritroso nel tempo chiaramente questo è l'ultimo mistero olimpia di sean roden quello 2018 quando vinse il suo primo e unico titolo a 43 anni spostando philip sappiamo tutti com'è andata per poi entrare qualche mese dopo in una serie di disgrazie nella sua vita privata è legale mettiamola così a causa di quell'accusa di violenza sessuale ai danni di una tipa non meglio identificata è per tutti quelli che mi chiedono ma ci sono aggiornamenti su sean roden no non si sa niente in sostanza non si sa assolutamente niente non ne parla nessuno probabilmente lui sta cercando di non parlarne cercando di risolvere e questo è quello che che sappiamo in sostanza mentre lui continua ad allenarsi a postare cose e anche in questo post dice in sostanza l'obiettivo rimane sempre lo stesso feels good è bello tornare on the grind cioè al lavoro il primo allenamento di schiena in in un mese è ora di costruire un pacchetto più grosso e migliore quindi lui si sta allenando immagino che l'obiettivo sia tornare su un palco però c'è da dire che sono passati due anni dalla sua ultima apparizione ed è difficile per un bodybuilder tornare sul palco dopo un po di tempo abbiamo visto philip come si è ripresentato notevolmente peggiorato ed è più giovane di sean sean ha 45 anni adesso quindi non si sa che cosa succederà perché lui si allena ha perso gli sponsor in teoria è stato bannato dal mister olimpia a vita così avevano detto però come si suol dire la speranza è sempre l'ultima a morire e lui giustamente si allena l'abbiamo visto ingrassato off season ovviamente fuori fuori ciclo lui si è giustificato dicendo che ha sempre fatto così immagino per motivi di salute per dare un po di tregua al corpo e all'organismo però venendo alla domanda io penso che sicuramente avrebbe vinto il mister olimpia il 2019 perché ho già detto mille volte cosa ne penso di quel mister olimpia un mister olimpia in cui non c'era un phil in cui non c'era sean campione in carica in cui non c'era big grammy un mister olimpia che poteva andare come poteva andare con la vittoria di brandon curry o di william bonac o di a di chupan che alla fine sappiamo abbia visto trionfare brandon come il nuovo e quindicesimo mister olimpia nella storia di questo contest io penso che se sean avesse gareggiato 2019 sarebbe ripetuto abbastanza in scioltezza perché comunque un bodybuilder più completo di brandon più grosso di adi e bonac e penso che anche al 90 per cento della sua condizione stabilendo che il 100 per cento sia quella 2018 che l'ha fatto vincere avrebbe vinto tranquillamente quindi probabilmente sarebbe due volte mister olimpia a questo punto venendo poi al 2020 mettiamo a caso che sean abbia vinto nel 2019 quindi si presenterebbe come due volte mister olimpia in una condizione se avesse continuato ad allenarsi e gareggiare penso superiore a quella di phil perché phil non ha risolto i suoi problemi allo stomaco che gli hanno fatto perdere il contest nel 2018 in più è peggiorato in generale nel pacchetto che ha portato meno grosso meno definito con ancora il punto debole che l'ha fatto perdere sean è superiore a brandon soprattutto per le gambe e definizione quindi a questo punto se le cose fossero andate come sono andate quest'anno sean sarebbe stato come minimo secondo col vantaggio di essere mister olimpia per due anni di fila e a questo punto bisognerebbe vedere se bigrami si sarebbe presentato in questa condizione come sarebbero andate le cose in generale con tutto quello che è successo a bigrami e nel mondo però avremmo avuto probabilmente un comparison finale tra bigrami e sean e io penso che se sean avesse ripetuto la prestazione 2018 e eventualmente ipoteticamente quella del 2019 quindi un po di builder estetico con stomaco in controllo abbastanza completo con dei punti deboli che sono la lower back che anche un punto debole di bigrami e dei tricipiti così così che comunque in quelli di bigrami non sono eccezionali non escludo che sean avrebbe potuto infine ripetersi quindi chiaramente sono tutte supposizioni a me non piace fare video di supposizioni però mi è stato chiesto e questo è un po quello che penso io e secondo me un po tutti condividerete questo mio parere però come sempre siete liberi di farmi sapere cosa ne pensate in maniera educata esporre delle critiche costruttive non in maniera maleducata e senza rispetto che comunque è una cosa che non ci sta a fare niente perché la gente viene odiare basta però io la vedo un po così non so se e quando sean risolverà questa cosa spero che ne esca pulito nel caso risolvesse spero di rivederlo sul palco bella quella cosa in alto a destra però allo stesso tempo mi chiedo è possibile che un bodybuilder dopo due anni a 45 anni dopo due anni di inattività a 45 anni possa riaffermarsi nel contest più importante al mondo quindi fatemi sapere che ne pensate grazie per il like per le iscrizioni se non siete iscritti iscrivetevi perché la maggior parte delle persone guarda i miei video non sono iscritte non so per quale motivo quindi grazie per le donazioni sono sempre ben accette buona